Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami The Diva, oltre il successo, è praticamente uno spettacolo che potrebbe parlare sicuramente di tutte le compagnie, di tutto il mondo artistico in generale The Diva come scelta di titolo è stato davvero così un po' per voler, diciamo, mentire al pubblico The Diva è molto, cioè ci fa subito pensare a Hollywood, ci fa subito pensare alle grandi donne del cinema in realtà il vero titolo di questo spettacolo è Oltre il successo Oltre il successo perché ovviamente il pubblico, la gente che vive quotidianamente le proprie vite e che non ha niente a che fare con il mondo dell'arte, dello spettacolo non si aspetta tutto quello che c'è dietro, la preparazione di uno spettacolo, della vita di una compagnia e dei membri stessi della compagnia quindi The Diva, oltre il successo, parla proprio di questo vuole mostrare al pubblico quello che accade nella vita quotidiana di ogni artista quindi le invidie, le gelosie, la saccenza, la superbia, le storie anche d'amore la vera amicizia che esiste anche e quindi tutto quello che fa parte di questo mondo con The Diva Okiko si ripromette di andare avanti, di portare questo spettacolo sicuramente Oltre quindi è questo che ci ripromettiamo e che promettiamo agli ascoltatori, ai nostri fans e anche a chi fans non è perché appunto questo spettacolo non è rivolto tanto a chi ci vuole bene questo spettacolo, almeno per quanto mi riguarda e anche per quanto riguarda alcuni dei ragazzi che fanno parte di questa compagnia è rivolto appunto a quelle persone che non credono in questo mestiere come fosse un sogno ma credono che stare sul palco sia solo ed esclusivamente prendersi un applauso e indossare un bell'abito Radio 00, suona ciò che ami, più suona e più la ami